Nel dibattito su questa nuova strada di Gimarra non viene detto tutto fino in fondo o perlomeno io non ho sentito la realtà delle cose fino in fondo. Quella è una strada che era prevista fin dalle amministrazioni Carnaroli, quindi oltre 15 anni fa. Dall'allora amministrazione venne realizzato il primo tratto dalla superstrada fino a Via Roma, poi l'amministrazione mia successiva realizzò il tratto da Via Roma fino alla Trave e noi cancellammo dal piano regolatore quest'ultima parte che appunto passava a Gimarra perché la ritenevamo troppo costosa, troppo invasiva e comunque non avrebbe risolto il problema perché di fatto riporterebbe il traffico sulla statale e di fatto nell'unica strada oggi esistente. Perché si insiste così tanto oggi nel riproporla? Perché 5 anni fa quando l'amministrazione regionale insieme all'amministrazione pesarese e anche alla complicità dell'amministrazione di Fano dissero sì all'ospedale nuovo a Muraglia c'è bisogno di una strada che porti il più vicino possibile a Muraglia. Ecco perché c'è un dibattito riaperto oggi. Il problema è come raggiungere Muraglia dove si dovrebbe realizzare il nuovo ospedale. Allora io a questo un rimedio lo porrei immediatamente. Nel senso che la nuova amministrazione regionale che dopo il 21 settembre sarà di centrodestra e non più di centrosinistra riproporrà il mantenimento dell'ospedale Santa Croce a Fano al servizio della città di Fano e della vallata del Metauro. Se si vuole potenziare Muraglia che ben venga ma non sarà l'ospedale unico sarà l'ospedale di Pesaro e del Comprensorio. L'ospedale di Fano deve rimanere a Fano. In questo caso non serve più neanche la strada per arrivarci così di fretta a Muraglia. Quindi risolviamo il problema dell'ospedale mantenendolo a Fano. Non facciamo la nuova strada che attraversa Gimarra distruggendo un intero territorio e poi diciamoci la verità neanche basterebbero lì 20 milioni così come previsti. L'ultimo tassello occorre riproporre con forza il casello Fano Nord. Quello che a suo tempo avevamo previsto che la sovrintendenza ha bocciato. Io non posso credere che la convinzione della regione insieme alla convinzione del governo non riesca a superare il problema della sovrintendenza. Conseguentemente non più la strada di Marra, l'ospedale a Fano e il casellino che ti porta il traffico verso Pesaro creando una naturale circondazione con l'attuale autostrada. Risolveremmo tutti i problemi.